professore riconosci questo slogan se mangi troppo derubi la patria eh sì lo riconosco era uno slogan del regime fascista legato alle restrizioni alimentari che si fecero via via più pesanti con l'incazzare della seconda guerra mondiale tieni conto che il razionamento durante appunto la guerra era regolato dalle famose tessere annonarie dette anche le tessere della fame che stabilivano la quantità di cibo che ogni cittadino poteva consumare durante una giornata erano necessarie file lunghissime che erano veramente scene molto penose davanti ai negozi per procurarsi gli alimenti e la quantità a persone era assolutamente ridotta all'arrivo degli alleati nella capitale ad esempio i romani ricevevano solo 100 grammi di pane nero al giorno è utile ricordare però che già da anni benito mussolini propugnava la necessità diciamo così di un'alimentazione da riformare eh sì qui ti leggo io una frase del duce del novembre del 1931 quindi ben prima della guerra al congresso del sindacato nazionale fascista dei medici disse mussolini io sono profondamente convinto che il nostro modo di mangiare e tutto il complesso delle nostre abitudini quotidiane deve essere riformato alberto di cose da dire ne abbiamo tante in questa puntata intitolata così mangiavamo in camicia nera io direi di cominciare sì daniele partiamo bentornati a doi denominazione di origine inventata il podcast di alberto grandi e daniele soffiati che vi svela tutta la verità nient'altro che la verità sulla tradizione un po raffazzonata della cucina italiana professore cominciamo con una domanda diretta si può parlare di un'alimentazione specifica del periodo fascista guarda io ti direi di no così per il semplice motivo che il regime fascista è durato 20 anni ahimè insomma il periodo che va dal 22 al 45 è insomma particolarmente articolato sono successe tante cose quindi è impossibile esprimere un giudizio unico però è innegabile che il fascismo abbia provato a plasmare una nuova razza italiana se vogliamo dirla in questo modo e quindi anche l'alimentazione divenne oggetto di un'elaborazione culturale politica del tutto nuova con conseguenze ancora presente al giorno d'oggi cosa intendi esattamente ma guarda in generale questa ricerca della mitizzazione delle origini dei cibi italiani la ricerca di un lungo periodo storico nel quale gli italiani hanno mangiato bene ecco queste cose qui sono probabilmente elementi culturali che il fascismo ha portato nel nostro sistema dai quali non ci siamo ancora del tutto liberati questo in un collegamento tra l'antica roma e il regime da cesare a mussolini c'era sempre quest'idea per cui appunto gli italiani erano gli eredi dell'impero romano insomma tutta questa retorica che la tipica del regime fascista e che aveva anche una declinazione per quanto riguarda il sistema alimentare partiamo da prima dell'inizio del regime com'era la situazione in italia alla vigilia della marcia su roma è una domanda complessa e articolata perché in realtà l'economia di guerra e la successiva crisi post bellica hanno rappresentato sicuramente un arretramento nelle condizioni di vita e nella dieta degli italiani e queste difficoltà se ci pensi provocarono grandi conflitti sociali anche dall'indomani della guerra il famoso bienio rosso insomma quindi grandi conflitti che poi portarono a una crisi dello stato borghese e all'avvento del fascismo però bisogna anche dire che la ripresa fu abbastanza veloce l'italia riuscì ad agganciare la crescita dell'economia europea negli anni 20 e quindi anche se il reddito degli italiani rimaneva nettamente al di sotto della media europea gli italiani avevano un reddito che era la metà di quello degli americani di quello degli inglesi per capirci però insomma la dieta degli italiani migliorò nel corso degli anni 20 e questo sicuramente va sottolineato alla fine degli anni 20 però accadde qualcosa che cambiò decisamente il panorama è la famosa e famigerata crisi del 29 e la grande depressione che attraversò tutti gli anni 30 ovviamente la crisi del 29 è iniziata negli stati uniti poi si è velocemente propagata a tutte le economie occidentali e un po per tutti ha rappresentato un peggioramento per un paese già di per sé debole come l'italia questo peggioramento è stato sicuramente più marcato e d'altro canto poi quando arriverà la guerra la situazione alimentare ma non solo quella conobbe un vero tracollo in italia però tutti gli anni 30 sono un lungo e continuo declino dei consumi alimentari in italia tutto peggiorò più o meno questo per quanto riguarda l'andamento dei consumi dal punto di vista quantitativo ma dal punto di vista qualitativo cosa accadde tra le due guerre in realtà poco e niente perché vi hanno detto che negli anni 20 le cose migliorano effettivamente si registra un piccolo incremento nel consumo di carne e anche di quello di fumento e anche dello zucchero che è insomma in qualche modo il bene di lusso per eccellenza negli anni 20 si registra un piccolo incremento le calorie pro capite passarono da 2590 nel 1920 a 2830 nel 1930 quindi insomma un piccolo incremento c'era stato però come abbiamo già detto la crisi del 29 sostanzialmente spazzò via questi miglioramenti ci fu sicuramente un regresso e le calorie crollarono in maniera definitiva proprio andarono sotto le 2000 calorie pro capite nel corso della guerra tornò l'incubo della fame per la quale gli italiani erano emigrati in massa alla fine dell'ottocento e dalla quale sostanzialmente speravano di essersi affrancati dopo la prima guerra mondiale il regime fascista nel frattempo aveva iniziato a intervenire sui mercati alimentari di sicuro ci fu la famosa battaglia del grano sulla quale credo sia il caso di soffermarsi sì è il caso di mettere qualche puntino sulla i perché effettivamente ci sono tante cose che vengono dette spesso in maniera imprecisa allora il problema è che tutto girava intorno alla bilancia dei pagamenti l'italia era strutturalmente in passivo da questo punto di vista ma lo era soprattutto per l'alta importazione di frumento tieni conto che il consumo annuo si aggirava intorno ai 75 milioni di quintali e di questi 25 milioni dovevano essere importati questo ovviamente incideva in maniera molto pesante sulla nostra bilancia commerciale per questo venne studiata appunto la battaglia del grano insomma maniera pomposa altisonante il fascismo dava questi nomi a questi provvedimenti che venne lanciata la notte del 20 giugno del 1925 in un consiglio dei ministri l'obiettivo era quello ovviamente di rendere il paese autosufficiente dal punto di vista cerealicolo in particolare per quanto riguarda la domanda di frumento effettivamente se dovessimo guardare i risultati propriamente detti effettivamente ci si riuscì non del tutto ma quasi diciamo che la batteria del grano raggiunse gli obiettivi che si era dato ovviamente tutto questo aveva un costo molto elevato perché bisognava sovvenzionare l'agricoltura andò spesso a scapito di altre produzioni che avevano invece magari un valore aggiunto estremamente elevato e soprattutto quando a partire dal 27 ci fu un crollo del prezzo del frumento sui mercati internazionali l'unica maniera per sostenere il reddito dei agricoltori fu quello di alzare in maniera molto forte i dazi doganali e l'importazione di frumento e questo ovviamente andò a incidere molto negativamente sul bilancio dello Stato. Il regime cercò dunque di comprimere al massimo i consumi interni. Ah sì questo fu l'altro strumento utilizzato per riuscire ad arrivare all'equilibrio della bilancia commerciale cioè fare in modo che gli italiani mangiassero di meno è uno strumento estremamente impopolare però si percorse anche questa strada. Insomma alla fine la battaglia del grano non fu un grande affare per l'Italia. No direi proprio di no fra l'altro fu anche molto distorsivo sul progresso sulla diciamo sullo sviluppo dell'agricoltura italiana però mi preme ricordare ci furono anche forse degli aspetti positivi che fra l'altro sono anche quelli un po più delicati dal nostro punto di vista perché la battaglia del grano stimolò anche la ricerca di nuovi prodotti chimici e di nuovi antiparassitari quindi insomma la chimica fece progressi e nuovi concimi vennero utilizzati e poi ci fu anche una ricerca genetica con gli strumenti a disposizione in quel periodo per selezionare le varietà di grano più resistenti e più produttive. All'epoca l'azienda più all'avanguardia in tal senso era la Montecatini di Firenze. Sì è un'azienda chimica che era leader mondiale da questo punto di vista per quanto riguarda appunto i concimi, i fosfati, cioè tutto quanto riguardava il miglioramento della produzione agricola la Montecatini era un'azienda leader mondiale e all'avanguardia in grado di fare anche molta ricerca e anche questo abbiamo perso nel secondo dopoguerra. Ci fu la fusione tra la Montecatini e l'Edison che diede vita alla Montedison. Sì nel 1966 dopo la nazionalizzazione dell'energia elettrica Montecatini e Edison si fusero e crearono quello che doveva essere in teoria un grande colosso chimico in pratica lo divenne effettivamente ma a quel punto la chimica italiana da quel momento visse una vita stentata e con tante difficoltà ma anche con tanti scandali insomma in un caso di successo aziendale. Abbiamo parlato del grano, quale fu invece il destino degli altri cereali? Guarda il caso più curioso e anche più clamoroso per certi versi è quello del riso perché effettivamente la batteria del grano rischiava di mettere a repentaglio la produzione, la produzione anche di pregio che era molto diffusa nella pianura padana che era quella del riso e fra l'altro il riso poteva essere un sostituto di altri cereali che venivano consumati e quindi il fascismo nel 1931 istituì l'enterisi che aveva lo scopo appunto di salvaguardare questa produzione e possibilmente anche allargarne il consumo in altre aree del paese. Diciamo il primo obiettivo venne raggiunto e effettivamente il riso ancora oggi è un elemento importante nell'agricoltura di alcune zone della pianura padana. Il secondo invece no, assolutamente gli italiani da Firenze in giù non ne vogliono proprio sapere. Il riso è un cibo per malati, per bambini. Ci fu un'indagine dell'Istat che certificò nel 1950 che in Sicilia proprio il riso non lo conosceva. Assolutamente, infatti ancora dopo la seconda guerra mondiale, quindi molto dopo l'istituzione dell'enterisi, il consumo di riso in Sicilia era zero, ma anche nelle altre regioni del Mezzogiorno era praticamente zerato. Questo apre uno scenario interessante sulla famosa storia degli arancini o larancine. Magari ci torneremo. Ci torneremo, però insomma questo per dire che in ogni caso il riso, che era la grande alternativa a cerealicola, in realtà appunto era molto consumato dove si produceva, ma fuori dall'area di produzione assolutamente no. Alberto, è un tema che abbiamo già toccato in altre puntate, ma io credo che sia il caso di tornare a parlare di uno dei prodotti simbolo della nostra cucina, la pasta, che non era molto amata dal fascismo. Guarda, ne abbiamo già parlato, però è il caso di tornarci. Il fascismo probabilmente era ostile alla pasta già prima della marcia su Roma. Mussolini era romagnolo, quindi chiaramente la pasta secca non la conosceva, forse conosceva i tortellini, ma oltre a quello non aveva altre esperienze. E quindi il fascismo era in qualche modo ostile, anche perché la questione si poneva in termini molto concreti, cioè per gran parte degli italiani, esclusi quindi i napoletani e i siciliani, la pasta era sconosciuta e la conoscono in America. Poi sono gli italiani che dall'America tornano in Italia, molti lo fanno, che in qualche modo dopo questa esperienza e questo collegamento tra pasta e il benessere della società americana, in qualche modo chiedono la pasta, pretendono la pasta, diventa una mania per gli italiani dopo la prima guerra mondiale, una mania dalla quale sostanzialmente non ci siamo ancora liberati. Per fortuna. Per fortuna, mi verrebbe da dire. Però tutto questo alla fine portava all'identificazione tra la pasta e la moda americana. Cioè il fascismo a un certo punto ritiene che la pasta sia una sorta di americanata. Una moda di importazione. Sì, che non ha nulla a che fare con la nostra tradizione rurale, che invece era più legata alle minestre, al minestore di verdura, ai legumi, non certo alla pasta. Al brodo, una polenta. Esatto. Purtroppo. Esatto. E quindi tutti questi cibi che facevano effettivamente parte della tradizione rurale italiana, avevano poco a che fare con la pasta. Ecco, il fascismo anche per tutto questo è, diciamo, forse ostile, è una parola grossa, ma di sicuro non propenso a favorire il consumo di pasta tra gli italiani. Beh, ci si misero anche i futuristi. Sì, quelli erano assolutamente ostili, erano contrari al consumo di pasta. Il famoso manifesto della cucina futurista di Filippo Tommaso Marinetti del 1931 è esplicito da questo punto di vista. Recita, lo leggo perché così non mi dimentico le parti più divertenti. A differenza del pane e del riso, la pasta asciutta è un alimento che si ingozza e non si mastica. Questo alimento amidaceo viene in gran parte digerito in bocca dalla saliva e il lavoro di trasformazione è disimpegnato dal pancreas e dal fegato. Ne derivano fiacchezza, pessimismo, inattività nostalgica e neutralismo. Se l'Italia è un paese neutrale è colpa della pasta asciutta. Beh, la costruzione dell'uomo nuovo, attivo e combattivo che persegue il fascismo non toccò solo la pasta accusata appunto di portare al neutralismo. No, no, assolutamente. Basta pensare che una parte del movimento vegetariano diventò in Italia naturista ed operò nell'ambito della cultura fascista creando un modello di vita centrato non solo su frutta e verdura ma sulla vita all'aria aperta, sull'esercizio fisico e sul corpo. Quest'ultimo nelle sue espressioni ginniche ammirato ed esaltato. Quindi veramente c'era un forte elemento di identificazione tra un certo tipo di alimentazione, un certo tipo di vita e l'idea dell'uomo combattente, l'uomo nuovo energico. E al riguardo Alberto ti leggo ciò che ha scritto il grande storico inglese John Dickey nel suo libro Con gusto, Storia degli italiani a tavola. Non era previsto che i fascisti amassero la cucina. Mangiare, se non nel modo più rapido e funzionale possibile, aveva ben poco di fascista. Le prime camice nere preferivano consumare le loro razioni marciando coerentemente con il loro obiettivo di ripristinare la disciplina delle trincee nella vita pubblica italiana del dopo Grande Guerra. Lo stesso Benito Mussolini amava dire che nessuno dovrebbe perdere più di dieci minuti al giorno a tavola. Le biografie incensatrici del Duce, una volta instaurata la dittatura, esaltavano le sue abitudini alimentari frugali e autodisciplinate. A colazione soltanto latte, pranzo a tarda ora a base di bistecca, pesce o frittata con contorno di verdure bollite e niente di più sostanzioso di un po' di latte e un pezzo di frutta per cena. Raramente le foto propagandistiche ritraevano il Duce seduto men che mai a tavola. In realtà, Mussolini era poco incline al Galateo e non amava cenare in compagnia, forse anche per via della sua fastidiosissima ulcera gastroduodenale diagnosticata per la prima volta nel 1925, che lo costringeva a quella dieta insolita con tutto quel latte e quella frutta. Mangiare insieme a Mussolini equivaleva a venire a conoscenza di uno dei segreti più imbarazzanti del regime. L'inesauribile ed energico Duce della propaganda fascista era spesso indisposto. Eh sì, questa cosa qui fa veramente sorridere perché il Duce aveva questo problema, adesso gli storici lo sanno, all'epoca si teneva assolutamente nascosto e quindi l'idea di questo uomo energico che era sempre attivo, sempre in grado di affrontare ogni difficoltà e che soprattutto viveva a sprezzo della comodità, insomma che aveva questo modello di vita e in realtà poi si confrontava con le difficoltà della salute del personaggio che era molto cagionevole da questo punto di vista. Insomma un'indisposizione perenne in contrasto col modello tratteggiato dalla propaganda dallo stesso Mussolini. Sì, fra l'altro a questo riguardo la propaganda di regime negli anni 30 sottolineava anche la differenza tra l'uomo nuovo fascista italiano e invece la mollezza delle democrazie occidentali. Ad esempio degli Stati Uniti si segnalava la civiltà della bistecca, veniva definita così, e invece della Gran Bretagna si segnalava il fatto che facevano cinque pasti al giorno, quindi come segno di avidità e ancora una volta insomma di scarsa spirito combattivo, se vogliamo dirlo in questo modo. Tutte queste campagne della propaganda però erano destinate a scontrarsi con la dura realtà. Sì, la dura realtà che appunto dopo il 29 le cose andarono sempre peggio, quindi anche se la propaganda di regime divenne sempre più martellante, sempre più forte e le origini antiche del nostro cibo e della nostra alimentazione venivano ogni giorno esaltate. Anche dai cinegiornali dell'Istituto Luce? Sì, cioè l'idea di Mussolini che falciava il grano a torso nudo, queste immagini qui, allora anche se la propaganda andava in questa direzione, però se le azioni alimentari erano sempre più scarse, se i salari dei lavoratori erano sempre più limitati, le buste pagano sempre più leggere, allora è chiaro che poi alla fine la propaganda può fare qualcosa, ma non può negare la realtà e quindi questa cosa cominciò a diventare sempre più grave. Tra l'altro poi si aggravò ulteriormente. Con la guerra in Etiopia, che non migliorò le cose. Assolutamente no, la guerra in Etiopia, a parte che diciamo fu veramente una cosa indegna da parte di una infame nei confronti del popolo etiope e quindi questa cosa ulteriormente isolò l'Italia e ancora una volta la propaganda cercò di utilizzare a proprio vantaggio questo isolamento e quindi utilizzando le famose sanzioni come elemento di retorica, però poi il risultato finale è che le condizioni continuavano a peggiorare. Gli italiani furono costretti a cercare dei sostituti di cibi che facevano parte ormai della loro quotidianità. Pensiamo al caffè, il caffè venne sostituito con la cicoria perché il caffè doveva essere importato ovviamente e quindi questo prodotto non poteva essere a disposizione degli italiani. Il frumento fu sostituito con cereali minori. Assolutamente, il tè col carcadè, con i prodotti coloniali che in qualche modo cercavano di sostituire, quindi anche dal punto di vista qualitativo, oltre che dal punto di vista quantitativo, la detta degli italiani dopo l'invasione dell'Etiopia, dopo le sanzioni e il lancio dell'autarchia, anche questa sempre con grande enfasi propagandistica, peggiorò in maniera sensibile. La guerra fu un disastro da tutti i punti di vista, anche da quello alimentare. Sì, su questo tutti gli storici concordano. Il peggioramento della dieta degli italiani fu ancora più forte, si arrivò ad andare sotto le 1600 calorie pro capite, quindi davvero una condizione di fame e in più l'irrazionamento peggiorò ulteriormente questa situazione. Per far fronte a queste difficoltà il governo introdusse la tessera, della quale abbiamo già parlato. Le tessere annonarie, dette anche tessere della fame. E ovviamente questa situazione creò un ulteriore paradosso, perché aprì la strada al mercato nero, per cui chi non aveva soldi doveva affidarsi a quel poco che il governo poteva distribuire attraverso le tessere. Chi invece aveva qualche risorsa economica in più poter rivolgersi al mercato nero e quindi godere di vantaggi, però ovviamente questa cosa creava delle disparità enormi e creava ulteriormente malumore e anzi rabbia nella popolazione, quindi davvero la guerra fu un disastro dal punto di vista alimentare, ma fu anche un disastro dal punto di vista proprio della tenuta dello Stato e quindi la rabbia popolare travolse il fascismo e tutta la retorica che in qualche modo ne faceva parte. La ricostruzione post-bellica dunque partì da qui, da un rifiuto del passato e da un'adesione quasi religiosa ai nuovi modelli economici e di consumo che erano arrivati dai salvatori americani. È proprio così, le risorse erano quelle che erano e gli interventi dell'URL, l'organizzazione internazionale che doveva risolvere i problemi immediati di fame per i paesi belligeranti e poi successivamente il piano Marshall risolsero effettivamente il problema del pane, ma ci vorranno molti anni prima che i livelli dei consumi prebellici venissero di nuovo raggiunti dal paese come l'Italia e d'altro canto anche i consumi prebellici come abbiamo visto non erano particolarmente esaltanti. Sulla fase storica importantissima successiva alla guerra, che in parte abbiamo già toccato, torneremo in una futura puntata. Come sempre consigliamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati durante la puntata. Comincio io col libro già citato, Con gusto, storia degli italiani a tavola, di John Dickey, la terza. Io invece consiglio Gli italiani in sette pranzi di Emanuela Scarpellini, la terza editore. Siamo in chiusura, vi invitiamo come sempre a seguirci sulle nostre pagine DOI Podcast sia su Instagram che su TikTok, in cui ogni giorno potete trovare video delle puntate, contenuti inediti e commenti sull'attualità legata ai nostri temi. Concludiamo rispondendo a una domanda che ci è stata rivolta sui social network. Alberto Fabrizio ci chiede informazioni sulle origini delle lasagne. Davvero sono nate vegetariane a base di spinaci? Eh sì, probabilmente è esattamente così. Le lasagne erano un piatto vegetariano, fondamentalmente anche abbastanza povero, e gli spinaci erano il condimento principale. Poi, per fortuna, siamo diventati più ricchi e ci abbiamo messo la carne e la besciamella e a ricordo di quella vecchia ricetta, diciamo, più povera, gli spinaci dal condimento sono andati dentro la pasta e quindi le lasagne tradizionalmente sono verdi e non bianche. Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata. Un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Produzione di Gabriele Beretta per OnePodcast.